Due giorni di lavoro, sette tavoli tematici ed oltre 200 imprenditori e manager intervenuti da tutta Italia. Sono i numeri dell'International Women Entrepreneurs Forum, un vero e proprio laboratorio dedicato all'imprenditoria femminile, ospitato lo scorso fine settimana a Torre del Parco, nel cuore della città di Lecce. Un incontro organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con la Fondazione Maria Bellisario. Imprenditrici affermati a livello nazionale ed internazionale si sono confrontate sui temi principali di attualità ed economia, come governance, ricerca, start-up ed innovazione. Un appuntamento chi ha dato i suoi frutti e chi ha visto la nascita del primo manifesto delle imprenditrici pugliesi, che condizionerà le linee programmatiche della Regione in tema di economia. Bisogna confrontarsi, sedersi intorno a un tavolo e confrontare le proprie idee e le proprie proposte, non tirarsi indietro rispetto alla possibilità di dare un proprio contributo e investire. Questo è il segnale che parte dalle donne, investire in modo innovativo, farsi aiutare nel credito. Quindi partirà un ulteriore appello alle banche perché aprono e non realizzino discriminazioni, ma anche farsi aiutare nelle start-up e quindi avere capacità consulenziale, formazione verso le start-up. È quello su cui stiamo lavorando, con dei piani e dei bandi che aiutano proprio i giovani, le donne, le giovani imprese a costruire, aiutano quelle che esistono a mantenere l'occupazione. Attualmente sono 85.206 le imprese femminili pugliesi registrate nel primo semestre 2014, con un tasso di femminilizzazione del 22,6%, superiore alla media nazionale. Commercio, agricoltura, turismo e sanità. Le donne pugliesi si sono specializzate e talvolta reinventate, facendo del proprio coraggio il miglior antidodo alla crisi. In questo cammino la regione Puglia le ha accompagnate e supportate, nessun esempio i concreti, il programma regionale a sostegno dell'imprenditoria femminile e diversi bandi regionali di incentivi alle imprese che presentano e promuovono una maggiore presenza femminile. Io credo che le donne abbiano davvero una parola in più per il cambiamento, dove ci sono oggettivamente migliora e la qualità della vita e la qualità del business, la qualità economica. E penso che le donne in questi due giorni presenti qui hanno dato un importante contributo per il benessere della Puglia, ma va molto oltre, per il benessere del Paese.